Ciao a tutti, buona giornata, dopo una nottata di ventaccio da paura, leggera pioggiarella, ci stiamo per avventurare in questo bellissimo corte di cui mi ricordo il nome, vedi ti ricordi il nome? Mi lascio un po' le immagini di questo spettacolare panorama. Questo rumore che sentite è solo il tergicristallo, non pensate male? A dopo Tappo obbligatorio alla cascata Adesso andiamo a vedere se riusciamo ad avvicinarci un po', prendiamo le scale E' un po' le immagini di questo spettacolare panorama Abbiamo lasciato le giacche in auto solo per evitare la perdita di tempo e il mettercele e toglierle, però caspita averle avute, fortunatamente non sta piovendo. Eccoli lì, fredotti, li ho presi tutti e due, oddio adesso mi corrono dietro, mi vogliono signestrare il telefono, il telefono, il telefono, il telefono, ce l'ho fatta, ma come? Eccola là, adesso ci avventuriamo per questo sentierino. Perchè ci siete così distanti? Avete paura di essere ripresi? Non si fidano più di me! Attento, lo scopo è te la tagli. No, no, metto tutto. La punizione è divina! Oh mamma! Si inizia a sentire l'acqua, lo senti? Sì! Sì! Come potete vedere la forza dell'acqua che vento crea, eccola qua! Vediamo se riesco a andare! Ah! Miseria! Ah! È bellissima! Ah! E fa freddissimo! Sì! 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 Ok, direi che adesso sono abbastanza congelata! Possiamo tornare indietro e proseguiamo la strada per il fonte! A dopo! Ciao ciao! Ciao! Ciao ciao! Eccoci qua, siamo arrivati al forte! adesso andiamo un pochettino più giù e sulla destra dovrebbe essere la stradina che ci porterà all'ingresso allora il forte vittorio emanuele naturalmente questo qui è solo il parcheggio il forte è lassù se si passa da quella stradina lì a destra però adesso è vietata cosa che tempo fa non lo era e quindi dobbiamo prendere l'altra stradina ci vediamo dopo quando la troveremo ciao ciao peccato che ci siano questi signori che stanno riparando se non sarebbe stato veramente d'effetto l'ingresso di questo forte mi giuro comini sulla roccia vedo i cucicchi che è l'ingresso di questo forte un po' che sono uno strano fuoco dal vento o forse non era il vento o forse non era il vento chissà cosa si cela c'è qualcuno oggi in fondo ok 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 ciao ancora ancora mi Ah, non si può più andare qua, ti ricordi che erano andati? Ehi, non si vede niente. Grazie a tutti. 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 E iscriviti e iscrivetevi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.